E anche oggi camminando ho trovato qualcosa di molto interessante, quasi sotto ai miei piedi. Ci avevo già fatto un video l'anno scorso sull'altro social, quindi magari qualcuno se lo ricorderà. Venendo a noi è un bellissimo bruco di una spinge del Tiglio. È un po' più piccolino rispetto ai bruchi di tutte le altre spingi, però più di così lui non cresce. Adesso siamo a settembre, quindi è quasi giunto il suo momento di impuparsi sottoterra. Ma prima di farlo cambierà totalmente il suo colore e diventerà rosa barra viola. Anche se possiamo dirlo, il suo colore migliore è proprio il verde con questo, tra virgolette, cornino azzurro. Bellissimo!